Questa è una delle nostre prime biciclette prototipi realizzate nel 2018 col telaio interamente in bambù e in questo caso con resina, vivalente e juta. Ne sono altri prototipi con cane per altre fibre naturali. Questa bicicletta è stata già testata facendosi il giro quasi in tutta l'Italia con un ragazzo per girare un documentario sull'assistenibilità ambientale ha fatto da testimonial alla bicicletta e nel frattempo ha testato le possibilità della bici che si è comportata davvero molto bene durante tutto il pericicletta. La bici pesa soltanto il telaio un chilo e mezzo, la metà di un telaio di acciaio e si colloca appena sotto i telai in fibra di carbonio. A proposito di fibra di carbonio, una prossima miglioria che stiamo studiando grazie al nostro reparto di prototipazioni con la stampa di fia e quant'altro delle giunzioni adesso fatte appunto in tetroresina e fatte con la fibra di carbonio per alleggerire ancora di più il telaio, migliorare il processo produttivo e poter mettere in vendita la bicicletta in serie. Il nostro prossimo passo dopo questa prima miglioria sarà quello di pensare a una mobilità sostenibile che è ancora più a 360 gradi e implementare la pedalata assistita nella bicicletta. Quindi questo qua però giustamente c'è da attendere qualche tempo ancora per poterlo sviluppare. Per il momento speriamo in primavera di poter cominciare a mettere in commercio questo primo prototipo di bicicletta con bambù 100% siciliano.